Prego Assessore. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio chiaramente il Presidente per aver consentito ai cittadini in sala di presenziare anche a questo appuntamento, è una discussione importante perché ne abbiamo parlato tanto, mi sembra che all'interno delle comunicazioni che sono state fatte da tutti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione il tema dei punti verde qualità è stato un tema molto sentito, è stato anche oggetto di attenzione da parte della stampa, dei mass media e comunque credo che sia un tema che rappresenti un pochettino quella che è la situazione in cui si trova la nostra amministrazione. Questa giunta sta operando e sta cercando di risolvere tante criticità che sono rimaste sempre sul fondo. Allora io vorrei cominciare questa mia breve relazione cercando di individuare alcuni elementi, sicuramente qualcosa verrà tralasciata ma non in maniera colpevole, quindi me ne scuso se eventualmente non dovessi toccare tutti i temi, ma non per questo non c'è attenzione o sensibilità alla tematica a cui siamo chiamati oggi a discutere. Chi ha seguito l'avventura dei punti verde qualità dalla loro ideazione negli anni 90 fino ai fatti più recenti, sa bene come un'iniziativa partita con qualche buona premessa e stiamo parlando quindi di costruire ad esempio dei chioschi per piccole attività legate all'utilizzo del verde in cambio della manutenzione degli stessi, si sia progressivamente degenerata per motivi e circostanze che sono ora al vaglio della magistratura. Bandi troppo sbilanciati a favore dei privati proponenti, realizzazioni di cubature inaccettabili da ogni punto di vista. Quindi non assentite, pressoché totale assenza di controlli sul rispetto delle clausole contrattuali e sui cantieri, mancanza di coinvolgimento dei cittadini, dei territori, fino all'individuazione delle aree. C'è stato quindi uno scarso ascolto di tutte le osservazioni dei municipi. Questo è quanto abbiamo raccolto nel ricostruire questa vicenda annosa. Quindi un'idea discreta, miseramente naufragata, con scarsi benefici per la collettività ed un enorme debito gravante sulle casse comunali in virtù di fideiussioni e mutui contratti dagli stessi concessionari. I soggetti ultimi gestori degli impianti, che quasi mai risultano coincidere con i vincitori dei bandi, sono subentrati nei diritti contrattuali in ragione di atti forse sconosciuti alla stessa amministrazione comunale. Ed hanno via via realizzato compendi commerciali che nulla hanno più a che vedere con i servizi per il verde. Il verde, la cui manutenzione era la finalità principua del bando, in alcuni casi, è quasi scomparso. A favore di che cosa? Delle costruzioni, sollevando o alleggerendo i gestori dagli oneri contrattuali. Le aree verdi di standard di un comprensorio attuato non possono essere modificate nella loro destinazione, né possono avere cubature se non per attrezzature provvisorie atte al suo utilizzo e alla manutenzione. Una diversa destinazione dello standard al verde pubblico può essere autorizzata solo se necessaria per opere pubbliche di primaria importanza. Parliamo di strade, di fognature, di acquedotti, tubature per esempio per i servizi primarie e quant'altro. Quasi tutti i punti di verde qualità, che hanno derogato ed appaiono in contrasto con le norme suesposte, risultano quindi da acquisire al patrimonio capitolino, restituendo ai cittadini il verde di diritto, che hanno pagato di tasca propria con l'acquisto della propria abitazione. In questo il parere fornito dall'ANAC sulla possibilità di conservazione degli atti per il pubblico interesse è stato assai drastico e mette in guardia il Comune anche solo dal consentire ai cittadini di accedere alle strutture considerate fuori legge. Roma Capitale dovrebbe gestire i servizi pubblici a fronte delle risorse date dagli stessi cittadini attraverso quelle che noi chiamiamo la tassazione locale e non consentirne un uso speculativo sbilanciato fuori di privati per un tornaconto economico. Il verde standard urbanistico dei piani di costruzioni attuati con il piano regolatore non sono proprietà assoluta dell'amministrazione. Il fatto che il Comune non abbia denaro e sia indebitato non può assolutamente giustificare politiche che svendono diritti sui beni comuni della collettività. Questo è il punto dal quale stiamo partendo. Ma non è qui che ci fermiamo perché comprendiamo bene e diamo quindi atto all'importanza che alcune di queste realizzazioni assumono come punti di aggregazione sociale. Come ci indicano, perché li ascoltiamo i territori, gli stessi cittadini e della loro valenza ad esempio occupazionale e delle potenzialità di un loro eventuale riutilizzo e valorizzazione con finalità che dovranno essere in alcuni casi ripensate. E per questo chiediamo la preziosa collaborazione ad esempio delle strutture territoriali, quindi dei municipi che hanno certamente il polso della situazione. proviamo quindi, ed è questo il tentativo che stiamo facendo e spero che questa assemblea sia volta a questo indirizzo, proprio a quello di voltare la pagina e a scriverne una nuova in maniera legale e trasparente. Penso che questo sia quello che ci chiedono i cittadini e tutti gli operatori economici. Parliamo di quello che stiamo facendo. Allora, la prima azione che stiamo avviando consiste quindi nell'acquisizione dei cespiti al patrimonio di Roma Capitale e la cosiddetta loro inventariazione per poter procedere successivamente alle procedure di evidenza pubblica, quindi la messa a bando per una loro valorizzazione. Allora, dal punto di vista della regolarizzazione urbanistica, il Dipartimento competente, il PAO, sta predisponendo tutte le istruttorie, per ciascun punto verde qualità. Questa attività, riteniamo, si concluderà a brevissimo, quindi entro la fine del mese dovremmo avere un quadro molto dettagliato di ciascun punto verde qualità. Queste attività di regolarizzazione urbanistica, unitamente alle istruttorie, rappresentano un passaggio propedeutico all'elaborazione di una variante del piano regolatore. e quindi tutte le varie trasformazioni che si renderanno compatibili con la pianificazione urbanistica, le destinazioni d'uso e le costruzioni già realizzate ad oggi o comunque considerate incompatibili. Verranno quindi individuati tanti ambiti definiti centralità locali a pianificazione definita, quanti sono i punti verde qualità. All'interno di questi saranno perimetrati dei subambiti che individueranno le diverse destinazioni delle quali quelle edificate saranno denominate tessuti. Quindi abbiamo fatto un passaggio anche, diciamo, terminologico per dare la possibilità a tutti i cittadini anche di comprendere, poi nel momento in cui verranno forniti gli atti, di comprendere esattamente qual è la procedura che si sta seguendo. Sostanzialmente all'interno delle singole centralità che rappresentano i punti verde qualità sono individuati dei subambiti per le singole aree di interesse, per le singole destinazioni. Quindi se c'è una palestra parliamo di una palestra, se c'è un bar parliamo di un bar, una scuola altrettanto. Ecco, riteniamo che tutto ciò che è stato edificato verrà quindi definito tessuto. L'iter della variante si preannuncia comunque lungo, potrebbe durare circa due anni, in quanto dovrà seguire le prassi ordinarie degli strumenti urbanistici, comprese le conferenze dei servizi, quelle esterne con gli enti e dei vari vincoli che sono sovraordinati proprio in quest'ambito. E poi l'adozione da parte dell'Assemblea e poi la pubblicizzazione e l'approvazione anche a livello regionale. Quindi ci sono diversi passaggi che si rendono obbligatori proprio per regolarizzare e riportare tutto all'interno dell'alveo della legalità. Contemporaneamente all'iter urbanistico devono essere portati avanti anche gli altri adempimenti, quindi sono più processi quelli che bisogna portare avanti. Quindi c'è la regolarizzazione urbanistica che come ho già spiegato prevede un'istruttoria per un ciascun punto verde qualità. E dall'altra parte c'è l'attività di l'elettiva appunto all'iter da seguire a livello urbanistico. Cioè devono essere portati avanti per esempio tutti gli adempimenti di natura catastale e patrimoniale. Quindi dovrà essere ad esempio verificata la regolarità edilizia dei manufatti realizzati che potrebbero non avere i requisiti di agibilità o essere stati realizzati senza o indiformità dei relativi titoli abitativi. L'acquisizione dei cespiti al patrimonio di Roma Capitale e la loro inventariazione è condizione indispensabile per poter procedere successivamente alla messa a bando delle strutture per la loro valorizzazione. Quindi l'acquisizione richiede la verifica dello stato di consistenza dei compendi che consentirà anche di definire meglio i contenuti qualitativi e quantitativi delle varianti. Quindi credo che il percorso sia stato ben tracciato. È evidente che c'è un'attività molto cospicua da parte del Dipartimento dell'Urbanistica che, ripeto, ha già predisposto quasi tutta l'istruttoria per tutti i singoli punti verde qualità e quindi avremo tutta la documentazione a supporto e poi bisognerà cominciare con le varie procedure di acquisizione. Una delle idee è ovviamente quella anche di creare anche dei percorsi agevolati in cui magari l'interlocuzione anche con altri enti come può essere la Regione può essere superata. Quindi diciamo ci sono diverse idee in merito. Ad ogni modo non è questa la sede adesso stiamo intanto cercando di delineare quello che è un percorso che potrebbe finalmente rappresentare la soluzione di queste criticità. Lo Stato degli Atti ad oggi prevede che cosa? Che si recepisce o comunque si parte da una delibera di Consiglio Comunale la 169 del 95 che ha deliberato di affidare in concessione attraverso una procedura di gara di vendenza pubblica l'attrezzaggio e la gestione di aree verdi presenti sul territorio urbano aree verdi appunto che presentavano delle dotazioni insufficienti in termini di servizi ricreativi sportivi e culturali. Quindi questo era il punto di partenza. A questo punto l'attrezzaggio di queste aree poteva prevedere la presentazione di proposte progettuali per la sistemazione e la manutenzione del verde pubblico su aree comunali unitamente alla costruzione e gestione privata di complessi edilizi destinati a servizi e attrazzature a carattere ricreativo culturale e commerciale. Secondo aspetto riguarda l'acquisizione al patrimonio comunale di tutte le attrezzature e servizi in cambio della gestione degli stessi per una durata stabilita in base al piano di ammortamento presentato e il pagamento di un canone compensato con i servizi di vigilanza e manutenzione del verde pubblico. Terzo aspetto riguarda la selezione delle offerte sulla base del progetto di massima del programma di gestione e della relativa relazione finanziaria. Tale deliberazione quindi stiamo parlando di deliberazione 169 del 1995 tale deliberazione non ha tenuto conto però della legge Merloni la 109 del 1994 entrata in vigore alcuni mesi prima che obbligava le amministrazioni e giudicatrici di appalti in concessione alla verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici. inoltre il bando non era preceduto da nessun livello di progettazione da parte dell'amministrazione lasciando quindi piena discrezionalità ai partecipanti alla gara in merito alla definizione degli interventi da realizzare. Pertanto solo successivamente con la deliberazione di giunta comunale 4480 del 17 dicembre 1996 venivano approvate a le risultanze dei lavori della commissione esaminatrice unitamente all'elenco delle progettazioni ammesse le tempistiche e modalità di presentazione del progetto esecutivo delegando il dipartimento decimo a produrre gli atti di consenso per l'accesso all'area da parte del concessionario c la graduatoria con le prescrizioni da applicare per i progetti selezionati quindi questo è il passaggio successivo altre deliberazioni successive modificano ed integrano lo schema di convenzione tipo per la concessione l'elenco dei punti verde qualità da attribuire in concessione e i criteri di intervento sulle aree in particolare dopo l'espletamento della gara e l'approvazione della graduatoria con la deliberazione di giunta 4.480 del 96 e la richiesta ai soggetti vincitori di presentazione del progetto definitivo il consiglio comunale con deliberazione numero 84 del 98 stabiliva nuove modalità e competenze tra giunta e consiglio comunale per l'approvazione dei progetti già previste mediante accordo di programma dalla deliberazione di consiglio comunale 169 del 95 nonché modificava la convenzione tipo approvata e allegata al bando di gara quindi ci troviamo in una situazione in cui anche la normazione regolamentare da parte del comune sia andata a modificare nel tempo quindi cosa prevedeva tale nuova convenzione con la deliberazione comunale 169 del 95 viene modificata 1 la durata della concessione portandola a 33 anni diversamente da quanto previsto dal bando che ancora che ancorava la durata della convenzione al piano di ammortamento presentata 2 vengono modificati alcuni parametri edilizi e le superfici delle aree messe a bando consentendo la realizzazione di specifiche attrezzature e nuovi volumi estranei anche alle proposte progettuali presentati dai soggetti partecipanti alla gara 3 la previsione del bando quindi viene anche questo modificato la previsione del bando di gara che limitava al 10% massimo la possibile differenza del quadro economico del progetto preliminare presentato e il progetto esecutivo definitivo in totale con deliberazione di giunta comunale 4.480 96 e con le deliberazioni di consiglio 14 del 2004 202 del 2006 e 6 del 2007 sono state aggiudicate concessioni relative a 63 aree come sono suddivise queste 63 aree allora per 32 punti verde qualità per i quali non ancora convenzionati non si è ancora divenuti alla sottoscrizione della convenzione quindi con delibera del commissario straordinario con i poteri dell'assemblea capitolina la numero 23 del 2016 è stata avviata tramite conferenza dei servizi interna la verifica delle proposte progettuali dichiarate vincitrici con deliberazione di giunta comunale 4.480 4.480 del 2006 e dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico alla conservazione degli atti illegittimi quindi questo è un primo tassello che effettivamente viene analizzato e gestito con la deliberazione del commissario straordinario poi vi sono tre punti verde qualità già convenzionati ma le cui opere ancora non hanno avuto inizio quindi la stessa deliberazione quella appunto del commissario straordinario la 23 del 2016 ha demandato alla conferenza dei servizi interna la verifica della regolarità degli atti e ove si ravvisino illegalità l'annullamento degli stessi dichiarando l'insussistenza dell'interesse pubblico alla conservazione degli atti illegittimi terza categoria per un punto verde qualità quindi parliamo di cinecittà sub ovest già convenzionato si è proceduto con determina dirigenziale della direzione esecutiva ufficio indirizzo e coordinamento del programma punti verde qualità di roma capitale ai provvedimenti del caso mentre per un'altra parte di punti verde qualità per 27 punti verde qualità sono state già sottoscritte le relative convenzioni e che hanno comportato la realizzazione di opere in vari stadi di completamento la deliberazione 23 del 2016 sempre quella del commissario straordinario ha dichiarato la sussistenza di interesse pubblico interesse pubblico alla conservazione degli atti relativi e demandato alla conferenza dei servizi interna la predisposizione dei provvedimenti per la regolarizzazione da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione di questi ultimi quindi parliamo di questi 27 11 risultano con convenzioni decadute 8 da affidare in concessione e 3 da soggettare a procedura per manifestazione di interesse con possibilità di modifiche alle destinazioni urbanistiche e per altri 9 ha avuto avvio la procedura per la dichiarazione di decadenza ancora degli stessi 27 punti di verde qualità con deliberazione di giunta comunale del 14 2015 per 25 di esse si è stabilito procedere al collaudo tecnico con incarico da assegnare ai dirigenti di Roma Capitale mentre due risultano già collaudati a quella data benché non risultino atti di approvazione del collaudo in esecuzione della delibera 14 2015 sono state nominate 23 commissioni di collaudo costituite da dirigenti dell'amministrazione capitolina per un punto verde qualità non si è proceduto in quanto provvisto di certificato di regolare esecuzione emesso da parte della direzione lavori per un punto verde qualità da soggettare a collaudo parliamo di quello dell'olgiata non risulta ancora la nomina della commissione di collaudo nessuna commissione di collaudo ha concluso il collaudo ad oggi e pertanto risultano ancora da collaudare le opere già realizzate in 24 punti verde qualità questo è l'esito di parte dei lavori della conferenza dei servizi la conferenza quindi per la definizione delle iniziative e dell'attività da porre in essere non risulta ancora formalmente conclusa quindi la conferenza rimane ancora in piedi un altro aspetto e questo era diciamo questa è la situazione diciamo attuale di questi 27 punti verde qualità sulla quale la conferenza dei servizi sta operando per quanto riguarda gli aspetti finanziari nel 1996 la giunta comunale ha approvato sulla base dei progetti presentati degli interessati un elenco dei soggetti meritevoli di essere ammessi a tale iniziativa nel 1997 il Comune di Roma ha stipulato con l'istituto di credito sportivo e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano un'apposita convenzione triennale per il finanziamento del programma de quo da attuarsi attraverso la concessione di mutui per un porto iniziale di 300 miliardi delle vecchie lire nel 1999 la giunta comunale ha inteso ampliare i benefici della suddetta convenzione a tutti i concessionari comunali di soli impianti sportivi prevedendo un'integrazione di ulteriori 100 milioni la banca di credito cooperativo di Roma ha proposto le migliori condizioni di finanziamento del prestito dell'importo integrativo di 100 scusate 100 miliardi e pertanto i progetti in corso di approvazione hanno comportato una spesa complessiva pari a circa 400 miliardi delle vecchie lire parliamo sempre di lire premesso ciò nel 99 la giunta comunale ha emanato la delibera 1282 con la quale ha approvato la convenzione tra il comune di Roma e l'istituto di credito sportivo e la BCC per la concessione di finanziamenti per la realizzazione dei punti verde qualità e quindi degli impianti sportivi sulla base di questa delibera non sono però mai state rilasciate singole fideghiussioni ma è stato semplicemente sottoscritto un accordo tra l'amministrazione e le banche mediante il quale il comune si impegnava a garantire gli istituti di credito il problema fondamentale che si evidenzia sta nel fatto che la banca in base alla convenzione si era impegnata a svolgere una rigorosa istruttoria diretta a valutare da parte sua la cosiddetta bancabilità del progetto se appunto il progetto stava in piedi tale istruttoria non è mai stata effettuata da parte degli istituti di credito pertanto il comune ha erogato i versamenti pagando un debito che il concessionario aveva contratto con banca sulla base di una fideghiussione che però non era mai stata formalizzata il comune quindi potrebbe non uscire completamente indenne dalle vicende perché si configura comunque una responsabilità di tipo precontrattuale in quanto un affidamento c'è ovviamente stato si potrebbero comunque limitare i danni addivenendo chiaramente ad un accordo o ad accordi di natura transattiva nel 2006 furono stipurate altre due convenzioni proseguendo sempre sul lato finanziario con la bcc e con l'istituto di credito sportivo parliamo quindi della delibera 148 e 149 del 2006 a seguito delle quali sono state rilasciate singole fideghiussioni che però non hanno mai formato oggetto di una specifica approvazione del consiglio comunale il dirigente del dipartimento ambiente firmò con la banca il contratto di mutuo dove però all'interno c'era la clausola sulle garanzie ma la fideghiussione non è mai stata formalizzata perché prevista soltanto come appendice dell'atto di mutuo da ultimo si ritiene che si debba tener conto di quanto affermato dal presidente dell'ANAC il quale nel rispondere ai quesiti posti da Roma come capitale afferma che testualmente la sussistenza di illeciti amministrativi civili e penali nel comportamento dell'amministrazione genera numerose e gravi perplessità che si oppongono alle richieste di applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi secondo punto peraltro anche laddove non si ravvisino gli estremi dell'annuità degli atti emanati dall'amministrazione ai fini dell'adozione di provvedimenti di convalescenza è necessario che si rinvenga e si dimostri la sussistenza di un interesse pubblico alla conservazione di tali atti terzo aspetto non pare potersi prescindere dall'annullamento di tutti gli atti viziati e successivamente dalla rinnovazione di rituali procedimenti di gare immuni da vizi evidenziati questo è l'ANAC per quanto concerne l'aspetto finanziano relativa ai mutui erogati e concessi nel corso del tempo il riepilogo fornito all'assessorato dalla direzione programma e gestione di punti verde di Roma capitale nei primi giorni di febbraio 2017 delineano la situazione seguente importo dei mutui totali concessi 340.440.668.83 importo totale ai mutui erogati 289.485.348.26 importo del debito residuo 140.930.611.82 importo totale rate impagate 114.834.741.63 importo totale pagato da Roma capitale ad oggi 24.910.100.67 va precisato che tali dati sono frutto della ricostruzione storica basata sugli atti in possesso della suddetta direzione la quale sta svolgendo gli approfondimenti necessari per attualizzare le informazioni sopra riportate inoltre il tutto deve necessariamente essere oggetto di riscontro da parte della ragioneria generale per concludere va evidenziato quindi che gli aspetti legali e quelli finanziari sono strettamente congiunti le garanzie fidegliussorie prestate dal Campidoglio risultano infatti non perfette da un punto di vista giuridico le prime prestate nel 99 sarebbero state rese sulla base di una delibera di giunta mentre l'articolo 207 del Tuel prevede che siano autorizzate dal Consiglio Comunale questo vulnus viene comunque parzialmente sanato nel 2006 e nel 2007 con due delibere del Consiglio Comunale che fissavano un nuovo schema di convenzione che però veniva siglato dal dirigente competente con atto amministrativo sebbene anche in questo caso il dirigente non avesse alcun titolo per stipulare le fidegliussioni a tale vizio si aggiunge che gli istituti di credito non hanno svolto l'adeguata istruttoria prevista dalla stessa convenzione quindi alla luce di quanto ho riportato è chiaro che l'esposizione dell'amministrazione nei confronti degli istituti di credito non è così ampia rispetto a quanto viene raccontato anzi stiamo parlando di una situazione in cui eventualmente occorre ripensare in quell'ottica che dicevo prima cioè sulla eventuale attività transattiva da porre in essere con i vari soggetti sui 67 punti verde qualità approvati ne sono stati quindi finanziati 31 di cui 4 mai partiti ritorniamo quindi ai 27 perché rimasti a uno stadio di progettazione quindi dei 27 rimasti gran parte dei concessionari risultano decaduti o in procinto di decadere qual è l'intenzione quindi di questa amministrazione come già detto prima è quella di valutare caso per caso le singole fattispecie per ripristinare la legalità senza compromettere comunque la manutenzione delle strutture realizzate e il livello dei servizi erogati ai cittadini quindi al termine delle verifiche che questa amministrazione ha già avviato si valuterà quali concessioni preservare in via transitoria fino all'individuazione del nuovo concessionario nuovo concessionario che sarà individuato sempre mediante gara a evidenza pubblica ferma restando in ogni caso dove possibile l'acquisizione al patrimonio di Roma capitale dei manufatti realizzati al fine di poter completare i collaudi o ultimare le opere necessarie a una totale fruizione dei punti verde qualità che saranno poi oggetto di nuove concessioni concludo dicendo anche questo che i punti verde qualità non possono essere visti soltanto come un unicum nella loro natura bensì si inseriscono all'interno di una progettualità di una erogazione di servizi e di benessere nei confronti della cittadinanza e quindi parliamo del verde pubblico e quindi anche su questo il competente assessorato l'attuale giunta sta lavorando proprio sul piano del verde del comune di Roma che si ritiene quale strumento strategico per l'amministrazione che appunto è opportuno ed è necessario mettere in piedi al fine di conoscere esattamente per censire valorizzare e proteggere e tutelare il verde proprio in quest'ottica di sistema cercando di pensare a una città in cui le interconnessioni non sono solo quelle infrastrutturali quindi strade ma anche in termini di ecologiche interconnessioni ecologiche quindi aree verdi che racchiudono un pochettino tutto il tessuto urbano il piano del verde conterrà quindi linee strategiche indicazioni di buone pratiche indicazioni per la progettazione e regole per la manutenzione del verde assieme al regolamento del verde quindi diventerà uno strumento essenziale per la salvaguardia la gestione di tutto il patrimonio del comune in termini di verde pubblico e di tutto il patrimonio botanico ambientale pesaggistico e monumentale della città parliamo quindi di censimento del verde di tutte le aree verdi che insistono e svolgono delle funzioni ad esempio parliamo delle aree gioco per i bimbi parliamo delle regole per la messa dimora di alcune specie autoctone parliamo delle distanze minime fra gli alberi e le stritture urbane il famoso raggio di rispetto parliamo degli alberi di pregio parliamo del modello di gestione e manutenzione del verde quindi parliamo di giardini di parchi di ville storiche e di come si intende tutelare questo grande patrimonio di cui la città di Roma dispone in conclusione ho avuto la possibilità di leggere anche le varie proposte che sono venute dalle singole parti politiche e ho notato una coincidenza soprattutto di volontà da parte di tutte le forze rappresentate in quest'aula e ritengo che sia auspicabile soprattutto perché parliamo di una questione che risale agli anni 90 e di vicende che hanno caratterizzato fenomeni in alcuni casi molto discutibili come vi ho già diciamo mostrato la necessità quindi di trovare certamente un terreno comune per risolvere una problematica che diciamo ha tanti responsabili e quindi forse proprio per quell'interesse quel bisogno che la città di Roma ha di avere delle aree attrezzate delle aree verdi fruibili a tutti i cittadini una cementificazione che purtroppo è andata molto velocemente e non ha tenuto conto delle esigenze di vivibilità anche di aggregazione si parlava di punti di aggregazione io credo e invito quindi anche la maggioranza che sostiene questa giunta di riflettere appunto su una proposta che sia il più possibile condivisa che vada nell'ottica di preservare l'interesse collettivo l'interesse dei cittadini degli operatori economici sempre coerentemente con quelle che sono le previsioni normative di legge grazie